Buongiorno, oggi è giovedì 9 febbraio, rassegna stampa in breve di Video33, nuovo appuntamento con la nostra informazione, cielo variabilmente nuvoloso sull'intero territorio alto tesino, non manchiaranno ampi tratti di cielo completamente sereno, transito di nuvole innocue, assenza di precipitazione, un'immagine che ci arriva dalla Val Pusteria, qui siamo alle porte del centro abitato di Tesido, questa mattina è intorno alle 6.30. In regia abbiamo Massimo Moro, con il suo aiuto diamo un'occhiata alle aperture dei quotidiani che troviamo oggi in Edicola, il Corriere dell'Alto Adige, l'insediamento del nuovo procuratore capo di Bolzano, Giancarlo Bramante, tutelerò la convivenza, allarme sovranisti, sarà aumentata la sicurezza, il nodo è anche quello degli organici. Lorenzini Bonazza, alleanza a denti stretti sui gatti, inaugurazione imbarazzante per la nuova colonia felina protetta nella zona dell'Eurac, lungo le passeggiate del Talvera. Il quotidiano Alto Adige, CLE, buco da 30 milioni di euro, la crisi che ha colpito uno dei colossi dell'edilizia in provincia di Bolzano, all'asta la sede dell'azienda e il magazzino a Bolzano Sud. Il direttore della SAD risponde senza mezzi termini alle proteste e alle recriminazioni degli autisti in tema di stipendi, qui gli autisti sono strapagati, incassano almeno 1800 euro netti al mese. Svopay politiche riecco Zeller e spunta anche il figlio di Don Valder. La neve, ma poi si scierà sul fango, le previsioni non certo felici di uno dei principali esperti meteo, Luca Mercalli, riguardo le precipitazioni per i prossimi anni, quando farà sempre più caldo e pioverà anche d'inverno, anche in quota. La cronaca cura del quotidiano linguatresca Dolomiten, il tema è quello della raccolta differenziata, ottimi risultati in provincia di Bolzano e in provincia di Trento. Il quotidiano Tagess Zeitung, intervista all'esponente Svopay Helmut Renzler in tema di rendite vitalizi dei sindaci, la cronaca a cura del settimanale FF, la ricerca di nuove leve per il settore agonistico dello sci alpino, questo è il tema che viene approfondito all'interno nelle edizioni di questa settimana. In edicola trovate anche il settimanale diocesano Il Segno con le parole del Pontefice per quanto riguarda la Quaresima e soprattutto l'accoglienza dei profughi, le parole di Papa Francesco. È tutto, io vi ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione video 33, gli appuntamenti da non perdere in provincia di Bolzano nei prossimi giorni, la quarantesima edizione della Gran Fondo Dobbiaco Cortina l'11 di febbraio, King of Dolomites, il concorso fotografico a San Martino di Castrozza inaugurato il 16 di febbraio, la Gran Fondo della Val Casiesi il 18 di febbraio. Vi auguro un buon proseguimento di giornata.